Ehi là, Big Genius! Cos'è questa faccia appesa? Ancora smarrito o nella giungla delle espressioni goniometriche? Tranquillo, tanti esercizi svolti e commentati alla lavagna per te, con me. E passa tutto! Ciao, sono Matteo, anche noto come SuperMath. Il tuo superiore scientifico sempre a portata di click, pronto a darti una mano sia in matematica che in fisica, e oggi continuiamo le nostre avventure nel magico mondo della goniometria, o il tanto odiato mondo della goniometria, insomma, fai tu, con delle espressioni goniometriche. Sei sai quelle proprio semplici semplici, con seno, coseno, e gli angoli davvero semplici, cioè quelli ai punti cardinali di una circonferenza goniometrica 0, 90, 180, 270, 360, o insomma i loro fratelli quando facciamo più di un giro, gli angoli negativi, insomma, impariamo a gestire un po' tutte queste cosette. Ecco qui il primo esercizio subito per te, ok? Allora, come vedi, stiamo lavorando in gradi, ma ovviamente questi esercizi li potresti trovare anche in radianti. La misura degli angoli, d'altronde, noi la preferiamo, in realtà in radianti, ma di questo, boom, ne ho già parlato qui, in un'altra fantastica video-lezione, che ti consiglio magari di andare a vedere, anche alla fine di questa, no problem. Ma torniamo a noi. Allora, un mezzo lo riscrivo. Coseno. Coseno di 540 gradi io non lo so, abbiamo detto solo i punti cardinali, ma 540 significa che abbiamo fatto più di un giro in senso anti-orario, cioè angolo positivo, e quindi noi dobbiamo andare a ricavare il coseno di 180 gradi. Ora, da dove sbuca fuori questo 180 gradi? Banalmente ho fatto 540 gradi, meno 360 gradi, e il gioco è fatto. Ritorniamo esattamente in un punto cardinale fondamentale che conosciamo. 720 gradi. E qui stessa storia, in realtà anche peggio. Se vuoi 720 gradi è esattamente il doppio di 360 gradi, quindi qualcuno, il criceto di turno, si è divertito a fare due giri nella ruota, ovvero più 2 terzi seno di 0 gradi. Fondamentalmente questa è la storia. 720 meno 360, ancora meno 360. Cioè noi faremo sempre meno 360 fino a rientrare nella circonferenza e quindi negli angoli fondamentali compresi fra 0 e 360 gradi, o fra 0 e 2 pi greco, che dir si voglia. Abbastanza chiaro? Spero di sì, se no come al solito lasci un commentino qua sotto e arrivo da te più o meno alla velocità della luce, o almeno ci provo. Grazie per la pazienza. Successivamente, meno un quarto, seno di 450 gradi, e sto criceto gira tanto. Esatto. Anche stavolta si è fatto più di un giro e quindi seno di 90 gradi. Ok, ora però il criceto ha bevuto davvero tanto. Esatto. E ha cominciato a girare al contrario. Quindi angoli negativi. Ha cominciato a girare in senso orario. E quindi? E quindi per capire che angolo è, meno 270 gradi significa meno 90, meno 180, meno 270 qui. Che in realtà però significa anche 90 gradi se lo prendo in senso positivo. Infatti sommando 360 gradi a quel valore lì, torniamo esattamente a 90 gradi. Quindi più 6 volte il seno ancora di 90 gradi. Dice, ok, bene Matteo, bravo. Adesso siamo tutti con angoli fra 0 e 360 gradi. E Mocchi la risolve. E' sempre io e te in allegra compagnia. Ma facendo prima magari un salto qui. Boom. Lezione su seno e coseno è la tabellina dei valori fondamentali di seno e coseno in questi angoli nei punti cardinali, come li chiamo io, della circonferenza goniometrica. Io ovviamente li so a memoria. Impararli a memoria sì, ma ti verrà naturale. Ma soprattutto anche sempre saperli ricavare grazie ad un atteggiamento logico-deduttivo. Il ragionamento è sempre alla base di tutte le operazioni matematiche. Coseno di 180 gradi. Siamo qui. Quindi il coseno che cos'è? Il coseno è l'ascissa. Questa è una scissa massima negativa. Meno 1. Benissimo. Quindi questo sarà un mezzo per meno 1. Il seno di 0. Il seno è l'ordinata. Se siamo a 0, però siamo a quota 0. E quindi di conseguenza il seno di 0 fa 0. Questo lo possiamo, tra virgolette, cancellare. Perché due terzi per 0 farà 0. Inutile scriverlo. Meno un quarto, seno di 90 gradi. 90 gradi siamo qui. Ora, se siamo lì, il seno è l'ordinata, come abbiamo detto prima, ordinata massima pari a 1. 1. Quindi, meno un quarto per 1. O se preferisci, banalmente meno un quarto. Te lo scrivo solo per essere chiaro. Idem, più 6 per 1. Cosa è rimasto? È rimasto meno un mezzo, meno un quarto, più 6. Minimo comune multiplo, che in teoria sai fare anche da solo, non servo io. Ok, 4 diviso 2, 2 meno 2, meno 1, più 24, uguale 21 quarti, e vissero tutti felici e contenti. Questo più o meno è l'esercizio. Io credo che sia tutto chiaro. Per qualche dubbio, come al solito, e come ho detto prima, commentino, oppure, se ti va, vienimi a trovare anche sulle mie pagine social, la pagina Instagram, la pagina Facebook, dove vuoi mi trovi, ma ora è tempo di un'altra fantastica espressione goniometrica in mia compagnia. E per la par condicio, ecco un bellissimo esercizio, questa volta con gli angoli in radianti. Non ho modificato le funzioni goniometriche presenti, parleremo sempre solo di seno e coseno, però ovviamente se vuoi fare un saltino qui, boom, e ritrovarti un po' ancora, ripasso di tangente, cotangente, i valori anche fondamentali di quelli, tanto poi li useremo in dei prossimi esercizi, io direi che male non fa. Ora, come faccio a capire quando, vabbè, quando è negativo lo vedo, ma come faccio a capire quando ha superato un giro? Lì era facile, vedo 360 gradi, ma anche qui è facile, perché 360 gradi, noi sappiamo che corrisponde a due pi greco radianti, sempre lì la I, fai il salto e trovi quello che dicevo prima, però se quindi il numerino che sta accanto a pi greco è più grande di 2, io ho superato il giro, cioè praticamente 9 mezzi, 9 diviso 2, 4,5, io ho superato non solo un giro, ma probabilmente ne ho superati un paio, il mio solito criceto impazzito, ok? Cioè la tecnica è stupida, è facile, basta vedere il fattore davanti al pi greco, se è maggiore di 2, è superato il giro, 2 è un giro, 4, 2 giri, 6, 3 giri, e vissero tutti felici e contenti come al solito. Ora, coseno di 4 pi greco è esattamente quello, invece che fare meno 360, facciamo meno 2 pi greco, che fa 2 pi greco, possiamo lasciare scritto coseno di 2 pi greco, o se proprio non vogliamo problemi, possiamo addirittura fare coseno di 0 radianti, non c'è il pallino, non sono gradi, sono radianti, ma il gioco non cambia. Ora, io preferisco coseno di 0, perché boom, mi viene subito a mente, coseno di 0 fa 1, anzi, sai che ti dico, me lo scrivo proprio subito, così dopo facciamo anche prima, però fondamentalmente, se volevi lasciare 2 pi greco, fai come ritieni più opportuno. Il più 2 sin, allora, più 2 sin, sin di cosa? Meno 15 mezzi, cresciuto impazzito al contrario, 15 diviso 2, 7,5, esattamente il giochino che dicevo prima, e quindi devo fare più 2 pi greco, basterà un più 2 pi greco 1, ho i miei dubbi, io proverai intanto a fare una cosa tipo, mi metto qui da una parte, meno 15 pi greco, più 4 pi greco, che fa esattamente minimo comune multiplo, 2, meno 15, più 8 pi greco, a voglia tradotto, siamo ancora molto lontani, meno 7 mezzi pi greco, che devo fare? Devo fare sicuramente un più 2 pi greco, che non basterà, perché questo fa meno 3,5, che devo fare quindi ancora un più 4 pi greco, quindi, meno 7 mezzi pi greco, più 4 pi greco, fermo lì, forse sono andato un secondino troppo veloce, recuperiamo al volo proprio, allora, meno 15 mezzi, è meno 7,5, ogni giro è 2, quindi sarà 2, 4, 6, 8, per tornare positivo, quindi dovevo fare 4 per 2, 8 pi greco, l'ho fatto in due fasi, 4 pi greco e 4 pi greco, perché magari sto andando per step, sto andando per tentativi, sono umano anch'io, esatto, a volte, e quindi di conseguenza, che cosa succede? Si prova, non succede nulla di male, 2, meno 7 pi greco, più 8 pi greco, ok, ora i conti tornano, è tornato positivo, ed è tornato esattamente pi greco mezzi, quindi vuol dire che il cresceto impazzito, che fa meno 15 mezzi pi greco, o il cresceto meno pazzo, che fa pi greco mezzi, va bene lo stesso, è lo stesso identico punto, sulla circonferenza goniometrica, quindi pi greco mezzi, più un terzo cos, qui è più facile, perché è meno 3 pi greco, ma più 2 pi greco non basta lo stesso, più 4 pi greco, fa esattamente coseno di pi greco, 9 mezzi pi greco, te l'avevo anticipato all'inizio, quando avevo spiegato il giochino magico, è 9 diviso 2, 4,5, quindi non basta neanche più 4 pi greco, devo fare più 6 pi greco, attenzione però, non facciamo mai più 5 pi greco, più 7 pi greco, i giri sono da 2 pi greco, quindi di 2 in 2, 2 pi greco, 4 pi greco, 6 pi greco, attenzione perché potrebbe venirti in mente di fare questa, che in realtà non è proprio una genialata, detto fra noi, quindi, più seno di che cosa? 9 mezzi pi greco, questi conti te li puoi fare qui sotto, se li fai all'interno dell'espressione, meglio ancora, però fai un po' come ti pare, basta che sia sempre tutto ordinato, ordinato, quindi, 9 mezzi pi greco, abbiamo detto, 9 mezzi pi greco, meno, abbiamo detto, 4 pi greco, basterà, sì, quindi, 2, 9, meno 8 pi greco, ancora pi greco mezzi, perfetto, quindi qui dentro ci metto pi greco mezzi, io spero che il gioco sia chiaro, se no, come al solito, commentino qua sotto, e ne parliamo insieme, sempre tutti aperti e disponibili, come on, coseno di 0, l'avevamo detto, fa 1, il seno di pi greco mezzi, significa fare il seno di 90 gradi, la massima ordinata, e quindi 1, quindi più 2 per 1, se preferisci, coseno di pi greco, ti ridisegno un attimino la circonferenza goniometrica, così ci capiamo ancora meglio, siamo qui, coseno di pi greco, il coseno è l'ascissa, meno 1, lo vedi no? Perfetto, quindi più 1 terzo per meno 1, seno di pi greco mezzi, siamo qui, pi greco mezzi, lì il seno è massimo, perché è l'ordinata, quindi 1 più 1, davanti non c'è nessun coefficiente, ora molto semplice, 1 più 2, 3 più 1, 4, 4 meno 1 terzo, ora non ti far confondere, da questa maialata qua sotto, che ho prodotto io, benissimo, questo colore si vede che è una bellezza direi, esatto, lo frulliamo dalla finestra, e poi successivamente, che cosa facciamo? Un minimo comune multiplo, 3, 3 per 4, 12 meno 1, uguale 11 terzi, dovrebbe essere tutto corretto, spero che effettivamente lo sia, spero che questo video sia stato il tuo credimento, grazie per essere arrivato fino in fondo, anche a questa avventura scientifica, iscriviti al canale, perché non finisce qui, sempre pronto a darti una mano, intanto, altre lezioni di goniometria, e un video scelto appositamente per te, per continuare ad allenarti, ciao amico mio!